Ecco come preparare in quattro semplici passi delle squisite tartine al salmone. In una terrina metti 200 g di ricotta, un trito di erba cipollina e amalgama. In un'altra terrina metti 200 g di trancio di salmone senza lische e tagliato a listarelle e aggiungi il succo di due lime. Aggiusta di sale e pepe e fai marinare per 30 minuti. In una padella scalda una baguette tagliata a rondelle. Spalma sui pezzi di baguette il composto di ricotta e aggiungi alcuni filetti di salmone marinato. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Iscriviti al canale per non perdere le prossime ricette. Iscriviti al canale per non perdere le prossime ricette... Grazie.